Erbil, 25 settembre 2017, nel Kurdistan iracheno oggi si vota per lo storico referendum sull'indipendenza da Baghdad. Un appuntamento dalle conseguenze imprevedibili, sia per l'Iraq che per gli altri paesi dell'area, a cominciare dalla Turchia. Le operazioni di voto, sono iniziate alle 8, le 7 in Italia, e continueranno per 12 ore. Sono 12.072 i seggi a cui sono chiamati i 5 e 3 milioni di elettori kurdi registrati, sparsi in tre province del Kurdistan autonomo. Erbil, Sulaymaniyahidouk, ma anche la nella provincia contesa, e ricca di petrolio, di Kirkuk. L'iniziativa referendaria, promossa dal presidente della regione autonoma kurda Masoud Barzani, ha irritato e preoccupato i paesi confinanti dove vivono importanti minoranze kurde. Turchia, Iran e Siria.